bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi se mi sto buttando di prepotenza pinnacoli perché mi servono 130 punti esperienza per sbloccare omega ragazzi sappiamo tutti che xyuder e pinnacoli sono due cose esattamente opposte ma sappiamo anche che 130 punti esperienza si possono rischiare di fare ci provo trovo subito un fucile a points mi basta una kill o un po di permanenza pinnacoli i pronostici sono buoni raga i pronostici sono molto interessanti attenzione che entra attenzione bella duro grande attenzione grazie attenzione questo va bene era rimasto abbiamo fatto due hit gli avevo fatto due hit dovrebbero avermi assegnato i 100 punti esperienza un momento andiamo a vedere ragazzi se sblocchiamo l'omegone e il livello 85 attenzione armatura omega livello 1 ragazzi guarda qui oggetto 1 di 8 andiamo a vedere la prima armatura molto easy molto easy mi piace questa roba qua che sembra molto carbonicamente interessante l'armatura easy di omega quella estiva per lo jogging ce l'abbiamo Il numero 2 ragazzi sblocchiamo anche il gambale di Omega con una prepotenza ignara ragazzi guardalo lì come gli si sblocano giù le gambe sinuose come non lo so che cosa Attenzione di nuovo ragazzi sgronk il braccio di Omega cattivissimo con lo spuntellone che gli è c'è da qua raga Meraviglia delle meraviglie meraviglia delle meraviglie spring la faccia di Omega ragazzi Molto easy molto easy e siamo solo a metà ragazzi e siamo solo a metà Attenzione intanto sentite qualche donation perché come al solito siamo in live ma volevo fare la reaction a Omega insieme a voi Grazie The Gabe grazie numero 5 arriva la parte più cool dell'armatura ragazzi Aspetta che canto la canzone Siamo al 5 di 8 attenzione I primi leddini i primi leddini quelli gialli quelli gialli emissione di Omega giallo Surgulu emissione viola ragazzi spettacolo spettacolo e poi sbadong non mi sembra arancio Mi sembra palesemente giallo quello mi scusi Missione di Omega arancio dove ragazzi 8 oggetti sbloccati in un colpo solo Omega mega violento che figata e andiamo pass salito di livello hai raggiunto il livello 102 Gli oggetti che si sono sbloccati Omega finalmente e sgringol le sfide di Omega Andiamo un attimo a vedere anche il nuovissimo meraviglioso logo del livello 85 raga Bello più intenso più carico cominciamo davvero la grande scalata verso Wow il livello avendo raggiunto il livello 100 raga adesso è solo punti esperienza Ci sta 200 potete fare un pochettino meno le braccia corti Adosac Fatemi vedere il piccone di Omega guardalo qua Il piccone di Omega cosa fa? Spulso spulso il backpack di Omega Omega è troppo figo non ha il backpack Omega non ha il backpack fatemelo vedere guardalo qui Porca porca guarda l'Omega guarda l'Omega verde sembra un semaforo Guarda che figo ma guardalo qui Non avevo mai guardalo qua c'ha dietro le c'ha dietro le scrunkel c'ha dietro Troppo cool troppo cool Bisogna fare le modifiche a stile attenzione Bello Omega viola raga Bello Omega viola è un qualcosa di veramente viola L'Omega arancio interessante mi salvo l'Omega arancio Mi scusi può comportarsi in maniera un po' più seria Mi scusi Molto molto carino Andiamo a vedere un attimo le sfide del pass battaglia Quello completato Leonardo Roccetti Ah cioè easy Finito Finito Abbiamo fatto tutto ragazzi Beh questo ragazzi è il nuovo Xiu der Omega ragazzi Tanta tanta roba Io vi ringrazio per aver guardato anche questo video reaction Ci tenevo davvero tanto a farlo con voi Vi ricordo un bel like Iscrivetevi al canale Il cast the money Che c'è Leonardo Roccetti Buonasera Leonardo Mi raccomando Ci vediamo in live Ciao 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 Ciao